Sì, eccoci Massimo con il tecnico del Pescara Zeman, provo io a dare la risposta alla domanda. Questa sera sono contento della prestazione e del risultato. Sbagliato? Sbagliato, senza la prestazione si poteva migliorare, abbiamo sbagliato troppe cose facili, risultato mi dà soddisfazione. Però si è vista la migliore prestazione del Pescara, simile a quella di Perugia del primo tempo? Ma voi fate tutto su risultati, sul gioco. Noi avevamo problemi all'inizio di impostare azioni, poi avevamo sbloccato il cupone e c'erano più spazi. Ne abbiamo approfittato, però facevamo troppi errori facili. Nei primi, in occasione dei primi due gol, secondo me si sono viste le vere azioni che vuole il tecnico Zeman. De Marco che va dentro, appoggia per Merola, la chiamata di Floriani, il cross e il gol e poi la giocata esterno esterno per il gol del 2-0. Massimo la paragonava da studio a quelle di Insigne e dei bei tempi? Sì, qualche giocata buona c'era, ma non bastano secondo me. O meglio, si può fare meglio e io spero che la squadra si rende conto che cosa va bene e cosa no. Quanto c'è, Zeman, in questo Pescara nuovo visto nelle ultime partite di Pellacani? Perché parlare di un difensore con un 5-0 può sembrare strano, però gioca molto alto, aggredisce, la squadra è molto più corta, non ci sono più quelle ripartenze, quelle praterie concesse agli avversari. Sì, Pippo ha fatto una bella partita. Lui tiene alto, magari Messi non lo segue sempre, però è giusto che si parlano e che migliorano. Zeman, nel complesso è l'inizio di un nuovo campionato dopo quel momento negativo di risultati, no? Ogni volta si perde e si dice una cosa, si vince e si dice l'altra. Noi siamo in campionato, questa è quindicesima, sedicesima, sedicesima forse. E poi ci spetta 17, 18 e poi tutto il girone di ritorno dopo la 19. Franchini si è... Franchini fisicamente sta facendo bene, tecnicamente può migliorare. Da gasso pochi minuti, 12-13 più il recupero, però secondo me con i tempi giusti da play è d'accordo? Secondo me pure, sì. Indicazione per sabato senza squizzato? Può essere. Ecco, vedi, l'ho detto per scherzo Massimo, ma qualcosa forse è venuta fuori. Una domanda da studio e poi chiudiamo con Zeman. Eh sì, l'avevamo detto spesso che da gasso ha quelle qualità e può fare il regista. Fabio? No, io volevo chiedere al mister, al di là che l'ha sostituito e secondo me ha fatto bene, se è contento della prova di squizzato, perché secondo me oggi ha fatto una buona gara. Ecco, Fabio Ferraresi le chiede, al di là che l'ha sostituito, se è contento della prova del primo tempo di squizzato. Secondo Ferraresi ha fatto una buona partita. Ma secondo me pure, anche se lui va a momenti, anche gioca tutto dietro, anche forza davanti. Quando forza davanti mi piace, quando gioca dietro no. L'ultima, Zeman, volevo chiederle un attimo su Davide Merola, è il suo pupillo a Foggia, a Pescara, anche se non sta facendo bene, lei non l'ha mai tolto, sostanzialmente questa sera è stato il miglior Davide Merola. Anche lei è il migliore, lui deve giocare per fare gol, di solito gioca per far fare gol e ci devono pensare centrocampisti, no lui. Ma questa giocata, e poi proprio chiudiamo, Cangiano Merola, che aveva fatto a Cornero per Merola, che poi gli ha segnato Cuppone qualche giorno fa, le ricorda quelle di Insigne? No, siamo ancora lontani, però penso che hanno delle qualità e spero che miglioreranno. Grazie. 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 Grazie.